La spinta di sponsorizzare un hackathon ci è venuta dalle esperienze di giovani in grado di utilizzare la tecnologia, applicarla a vari campi dell'economia, del sociale e inventare, creare delle innovazioni che poi diventano dei veri e propri trend e tendenze. È che imparano che dialogare con l'altro, ascoltare le idee dell'altro e saper presentare le proprie diventa molto importante nel lavoro di gruppo. Quindi io credo che sia, come tante iniziative della Fondazione Ania, particolarmente innovativo e particolarmente efficace. Questi ragazzi avranno la possibilità di riflettere su un tema che è all'ordine del giorno in diversi settori industriali, in diverse aziende e che chiaramente occupa un ruolo di primo piano nelle strategie del settore assicurato.